Aguiranti, buon anno innanzitutto. Auguri anche a te. E per un 2012 che regali altre soddisfazioni? Sicuramente, già stiamo preparando la partita di domenica, una partita dura, speriamo di partire con il piede giusto che per noi è molto importante. Sarà un'annata difficile ma la prenderemo con lo stesso entusiasmo che abbiamo finito l'annata scorsa. Intanto lanciano sempre in zona playoff, l'obiettivo è quello di arrivare fino alla fine? Io sono del parere dall'inizio del campionato di pensare partita per partita e poi vedremo alla fine cosa riusciremo a fare. Temete il ritorno delle grandi, delle corazzate, di chi avrà la forza di attrezzarsi in questo calciomercato di gennaio immagino? Sicuramente il mese di gennaio è un mese particolare, le squadre cercheranno di completarsi, noi comunque siamo tranquilli e sereni. Pensiamo solo alla partita di domenica che per noi oggi come oggi è la partita più importante della stagione. Importante da affrontare soprattutto con la mentalità giusta? Sì, è una squadra che viene da un 7-0 subito in casa quindi avranno fame e voglia di riscattarsi ma noi in casa nostra dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei punti. Com'è il morale a parte le due squalifiche? Sì, tutto bene, siamo entusiasti di ricominciare l'annata e come ho detto prima speriamo di farlo con il piede giusto. Fatti il bravo, mica hai messo qualche etto, no? Tutto bene? No, no, tutto bene, tutto bene.